Una buona giornata, buona domenica, ben ritrovati con il TG6 la settimana, una settimana quella che ci lasciamo alle spalle, ripercorsa attraverso le nostre notizie e i nostri servizi. Partiamo da lunedì e andiamo in Vibrata dove sono state arrestate sei persone tra Martinsicuro e San Benedetto del Tronto, dunque le marche ritenute responsabili del pestaggio avvenuto la notte dello scorso 2 agosto davanti a un nightclub proprio di Martinsicuro ai danni di un uomo di 40 anni ridotto in gravi condizioni. Le accuse per tutti sono di tentato omicidio nel corso delle perquisizioni seguiti agli arresti rinvenute anche armi e droga sotterrate in un terreno riconducibile ad uno degli indagati. Il servizio di Stefano Buda. Il 2 agosto scorso, intorno alle 4 del mattino, un uomo di 40 anni fu brutalmente aggredito e pestato nel parcheggio antistante un noto nightclub di Martinsicuro. Questa mattina all'alba, in seguito a lunghe ed accurate indagini, i carabinieri di Alba Adriatica, coadiuvati dai reparti territorialmente competenti, hanno arrestato a Martinsicuro e a San Benedetto del Tronto sei persone che ora dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio. La vittima del pestaggio, picchiata con calci e pugni e colpita anche con delle sedie, riportò infatti gravi ferite e lesioni, in particolare alla testa, che sulla base di quanto certificato dai referti clinici avrebbero potuto provocare la morte del quarantenne, che invece, fortunatamente, se la cavò con una prognosi di 90 giorni. La notte dell'aggressione fu una telefonata al 112 ad allertare i carabinieri di Alba Adriatica, i quali giunsero immediatamente sul posto, soccorrendo il malcapitato, che come ricostruito successivamente dagli inquirenti era un avventore del night. L'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi, in seguito alla quale i sei indagati avrebbero prima cerchiato e poi selvaggiamente picchiato il quarantenne. Le successive indagini, condotte dai carabinieri di Martinsicuro, hanno fatto perno su numerose testimonianze oculari, sull'esame dei filmati carpiti dal sistema di videosorveglianza del locale, sull'analisi dei tabulati telefonici e sull'acquisizione della documentazione medica. Tutte attività che hanno permesso di ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione e di identificare i presunti autori del pestaggio, inducendo il GIP del Tribunale di Teramo, su richiesta della Procura, ad emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei sei arrestati. In seguito alla cattura dei presunti aggressori, nel corso delle perquisizioni a carico di una delle sei persone finite in manette, sono state inoltre rinvenuti, sotterrati in un terreno a San Benedetto del Tronto, un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola brasa, due pistole, una delle quali con matricola brasa e un involucro contenente 10 grammi di cocaina. Sia le armi che la droga sono state sottoposte a sequestro. Ci spostiamo a martedì, andiamo a Chieti, quando il sindaco Diego Ferrara ha fatto il punto sul dissesto idrogeologico che sta interessando via Arenazze, far defluire l'acqua e poi intervenire in maniera definitiva per consolidare l'area. Questa è la ricetta del primo cittadino di Chieti. Andrea Costantini. Situazione sotto controllo ma che resta comunque delicata circa la frana di via Arenazze a Chieti in corso dallo scorso 14 ottobre e che ha portato il comune a emanare da allora una ordinanza di interdizione all'uso di tre abitazioni. Ieri si è svolto un tavolo tecnico al quale hanno partecipato il sindaco Ferrara, l'assessore Rispoli, ACA, vigili del fuoco, protezione civile, dirigenti comunali e tecnici per fare il punto della situazione. Una frana attiva che scorre a 17 metri di profondità e crea delle particolari situazioni come quella che stiamo vivendo da circa 10 giorni. La problematica che è vicina alla soluzione definitiva è stata quella di una infiltrazione di acqua che ammorbidendo l'arenaria ha fatto sì che essa scivolasse. Siamo riusciti a trovare la cosiddetta bocca di uscita, quindi la sorgente, abbiamo creato un canale di raccolta che sarà perfezionato nei giorni che verranno, successivamente faremo un'opera di consolidamento della parte di collina che è franata, un consolidamento definitivo. Credo che qualche settimana ci vorrà. Circa le abitazioni interdette il sindaco aggiunge. L'ordinanza di sgombero alle famiglie è stata un'ordinanza temporalmente definita. Appena finiamo di fare i lavori penso che potranno tornare. Resta massimo il livello di attenzione con un monitoraggio praticamente costante su Via Renazze ma anche in tutte le altre zone sensibili al dissesto idrogeologico. Oggi come oggi può non sfuggirci nulla e intervenire precocemente e prontamente ogni volta che si appresti ad aversi una situazione di emergenza. Il fenomeno del dissesto idrogeologico di Chieti è conosciuto da decenni ma mai come in questo momento dal 2020 ad oggi questo dissesto sta manifestando velocemente le sue criticità. E da Chieti andiamo a Roseto degli Abruzzi perché sono ripresi i lavori di riqualificazione del pontile proprio di Roseto dopo uno stop di un paio di mesi dovuto a imprevisti di natura tecnica. Questa tranche di interventi sarà completata in sette mesi. Sindaco, sono ripartiti i lavori al pontile di Roseto dopo lunga attesa? Sì, diciamo che è un'opera ereditata con tante problematiche. La mia amministrazione ha saputo reagire a problematiche veramente ingessate. Intanto trovando un anno fa un finanziamento ulteriore che ha permesso ai lavori di non bloccarsi per arrivare a quello che è per noi importante un collaudo statico e poi ovviamente di seguire quelle che sono le vicissitudini in questo caso l'importanza di trovare la metodologia corretta per le perforazioni dei micropali. La ditta è ripartita e sta cercando con grande pazienza perché poi sono quei lavori che nella parte finale avrete letto nella delibera si parla di alcuni mesi per completare il lavoro ma è la parte più delicata quindi siamo in stretto contatto, il vice sindaco in stretto contatto con il direttore dei lavori e con l'impresa che speriamo nelle prossime settimane ci dia delle notizie insomma buone. Ovviamente abbiamo lavorato a che tutta l'area possa rigenerarsi quindi anche avrete visto nelle scorse settimane la rimessa diciamo in funzionalità della fontana storica della piazza del pontile di Roseto degli Abruzzi per grande gioia degli abitanti e degli avventori quotidiani. Con Regione Abruzzo abbiamo fatto mettere nelle schede dei FSC 21-27 un milione di euro per il restyling del pontile stiamo aspettando la conferma ma crediamo che possa essere una cifra corretta per poter completare quel restyling ricordiamo che con questo intervento che invece si concluderà successivamente alla messa in sicurezza dei pilastri all'abbattimento dei faticenti e pericolosi parapetti e l'installazione dei parapetti momentanei e temporanei per 18 mesi l'obiettivo è far rientrare a calpestare quindi i cittadini e i turisti a poter visitare il pontile poi con questo restyling sul quale come sapete abbiamo anche lanciato un concorso di idee e arriverà tra qualche settimana anche la progettazione vincitrice anche di quell'opera riusciremo ad utilizzare queste risorse che abbiamo chiesto e chiederle nelle altre. Parliamo adesso di trasporti perché la sentenza del TAR di Pescara e siamo alla giornata di giovedì che ha respinto il ricorso del consorzio Cotape e dal comune stabilendo che i tassisti della provincia di Chieti possono operare regolarmente nell'aeroporto d'Abruzzo induce Carla Di Biasi capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Chieti ad esprimere grande soddisfazione è stata ristabilita dice la verità dei fatti introducendo criteri che tutelano i tassisti di entrambe le province grande soddisfazione per Fratelli d'Italia dopo la sentenza del TAR che stabilisce che i tassisti di Tiatini possono operare sul territorio dell'aeroporto. A livello politico e personale è una grandissima soddisfazione e un risultato raggiunto. A livello tecnico credo che si sia ristabilita oltre la verità dei fatti anche un criterio che tuteli sia gli operatori di Chieti che di Pescara perché con la sentenza del TAR sezione di Pescara che ha definitivamente respinto il ricorso del Cotapo e del comune di Pescara facendo valere le nostre ragioni è stato confermato il decreto numero 59 del 2019 del presidente della regione che assegnava gli stagli all'aeroporto non di Pescara all'aeroporto d'Abruzzo per un numero di otto tassisti di Pescara e un numero di due tassisti di Chieti finisce quindi dopo 16 anni un'annosa questione che ha visto i diritti degli operatori di Chieti lesi da prevaricazioni continue. Per noi è stata sicuramente una vittoria perché abbiamo creduto come amministrazione sin dall'inizio nelle nostre ragioni e le abbiamo fatte valere in tutte le sedi opportune ma io credo che anche il presidente Marsiglio abbia dimostrato di essere un attore super partes della vicenda non parteggiando per nessuna delle due città ma usando dei criteri oggettivi. E siamo nel fine settimana ovviamente parliamo di maltempo che ha interessato anche la nostra regione alberi crollati segnaletica stradale in segne divelte a causa delle forti raffiche di vento nella notte tra giovedì e venerdì è stata una nottata dunque di grandi disagi una nuova perturbazione che interesserà la nostra regione peraltro anche in questi due giorni. Notte difficile e piuttosto movimentata a causa del netto peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione. La tempesta di origine atlantica ha raggiunto le regioni settentrionali portando un netto peggioramento su gran parte del centro-sud registrati forti raffiche di vento fino a 100 km orari. Circa 25 l'intervento in provincia di Teramo. Principalmente si è trattato di rimuovere alberi, rami e altri elementi pericolanti ma i pompieri sono intervenuti anche per spegnere incendi di sterpagli a Varano di Teramo e a Bisenti dove le fiamme hanno raggiunto un capannone con alcuni mezzi agricoli. Particolarmente interessato è il territorio di Silvi dove sono caduti elementi di rivestimento della facciata di un hotel di grande altezza e di diversi alberi e rami. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere gli alberi e ripristinare la viabilità. Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco di Pescara. Danni si registrano nell'intera provincia, tetti scoperchiati, tendoni e cartelloni di velti. I problemi principali riguardano la caduta di rami e alberi che sono finiti sulle strade. In alcuni casi occupando anche l'intera carreggiata sulle abitazioni e sulle linee della corrente elettrica provocando dei blackout. A Pescara città un grosso platano è crollato in Viale Pindaro nei pressi dell'università. Chiusi per precauzione tutti i parchi cittadini. Appenne per alcune ore è rimasta chiusa la statale 81 all'ingresso della città per un albero caduto sulla strada. In provincia di Chieti notte di grande lavoro per i vigili del fuoco. A vasto il vento ha danneggiato un'impalcatura e decollato un tratto di muretto della balconata orientale. Il comune ha attivato il coc ed è stata disposta la chiusura del cimitero della villa comunale di tutti i parchi. A Chieti il vento ha completamente smantellato il tetto di una casa disabitata danneggiando un cavo elettrico. Ieri è arrivata anche la prima neve sul Gran Sasso come mostrato anche dalla webcam del rifugio Duca degli Abruzzi a 2388 metri di altitudine. In autostrada riaperto poco prima delle ore 9.30 di stamani in A14 il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Sud in direzione Bari precedentemente chiuso a causa del vento forte causando la caduta di alberi sulla carreggiata. Per il momento il peggio sembra alle spalle. Domani il maltempo darà una tregua ma per la giornata di domenica è atteso un nuovo peggioramento con vento forte e specie nelle zone interne. E questa è stata anche la settimana che ha visto la nostra regione sulle cronache nazionali e internazionali per l'omicidio di Casoli. Perché dopo il fermo in Inghilterra di Michael Dennis Whitbread, l'uomo ritenuto dagli inquirenti l'autore dell'omicidio della compagna Michelle Donfayers, uccisa con sette coltellate, a Casoli probabilmente lo scorso sabato, gli inquirenti sono in attesa delle decisioni delle autorità inglesi in merito alla richiesta di estradizione. L'uomo sul quale pende l'accusa di omicidio volontario aggravato rischia l'ergastolo. E' stato risolto nel giro di poche ore il caso di Michelle Donfayers, la donna britannica di 66 anni, il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita mercoledì mattina nel casolare di Casoli, nel quale conviveva con il compagno Michael Dennis Whitbread, anche lui inglese. La donna, madre di tre figlie, era stata uccisa alcuni giorni prima, probabilmente nella giornata di sabato, con sette coltellate. Il suo compagno, di 74 anni, si era subito reso irreperibile, ma è stato fermato nella serata di mercoledì a Shepshed, nell'Estershire, dove era giunto dopo una fuga a bordo della sua jeep bianca. E' stata la figlia che aveva preso la notizia dell'omicidio dai giornali inglesi ad allertare la polizia locale, spiegando che l'uomo le aveva telefonato per chiederle ospitalità. Per Whitbread, dopo il fermo di mercoledì scorso, ieri sono scattati gli arresti sulla base dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Lanciano, Chiara D'Alfonso, su richiesta del procuratore capo Mirvana di Serio. Gli inquirenti gli contestano l'accusa di omicidio volontario aggravato. Oggi, davanti alla Westminster Magistrates Court di Londra, è in programma l'udienza per l'estradizione. L'uomo rischia l'ergastolo e le prove a suo carico appaiono piuttosto consistenti, anche considerando che sulla scena del delitto sono stati trovati i suoi vestiti sporchi di sangue. E' tutto da chiarire invece il movente, anche se l'ipotesi più accreditata è legata a risentimenti di natura passionale. Nulla in ogni caso potrà mai fornire un senso a quanto accaduto. Sempre sabato, a poche ore dalla sua nomina a prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo ha salutato ieri proprio la città di Pescara, dove è stato per tre anni. Paolo Renzetti. Quella di questa mattina in piazza Garibaldi per partecipare alla tradizionale cerimonia del 4 novembre per la festa delle Forze Armate è stata per il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo anche l'occasione per salutare la città, i pescaresi, dopo la sua nomina al nuovo prefetto dell'Aquila al posto di Cinzia Torraco, che sarà il nuovo prefetto della città di Genova. Oggi è il giorno per dire grazie a tutti i pescaresi, grazie al sindaco di Pescara, grazie a tutte le autorità, grazie a tutte le cittadine della città e della provincia. Sono stati anni impegnativi, vissuti intensamente, abbiamo cercato di fare, ho cercato di fare il mio meglio. Un saluto a tutti i pescaresi e soprattutto un grazie a tutti i pescaresi, una città splendida, ho trovato grandissima collaborazione, come dicevo, sia da parte delle istituzioni sia da parte di tutti i cittadini. Per lei eccellenza arriva un incarico di grande prestigio. Sì, ringrazio il Ministro, ringrazio tutto il Governo per la fiducia che mi è stata data affilandomi in un capologo di Regione, cercherò di dare il massimo anche lì. E siamo allo sport e calcio di Serie C, Pescara al completo per la trasferta di questo pomeriggio alle 14.00 a Carrara dirigerà Cavaliere della sezione di Paola. Dispetto delle attese saranno confermati in difesa Brosco e Mesic, che sono diffidati nella conferenza pre-gara. Zeman ha parlato della flessione della squadra degli ultimi tempi. Sulla disputa del match permane l'incognita del maltempo. Peraltro, gara questa che potrete seguire tra poco a partire dalle 13.30 con l'Abruzzo del pallone live, con Andrea Costantini in studio e Paolo Renzetti in diretta dallo stadio dei Marmi di Carrara. Intanto facciamo un passo indietro e riascoltiamo quello che ha detto in conferenza stampa ieri mattina Zdenek Zeman. La conferenza pre-carrarese Pescara è stata l'opportunità per Zeman per fare il punto sulla flessione della squadra nelle ultime partite. Sotto il profilo dei risultati e del gioco, le parole del Boemo sono chiare. Domenica abbiamo giocato più di 700 paloni, che non è normale per una squadra che deve giocare calcio veloce, propositivo e aggressivo. Mediamente noi quando le prime li vinciamo facciamo 400. Ma 700 è quasi doppio, si perde tempo e si perdono le distanze. Ma io sono sempre contento quando si mettono dietro l'avversario. Vuol dire che abbiamo meno problemi noi dietro. Invece è successo contrario. Il problema è quello che siamo passivi. Noi aspettiamo avversari che ci vengono e poi ci meravigliamo come mai che vengono. Ma se io non la vado a accorciare, non vado su a prendermi riferimento, è normale che poi loro hanno spazio di arrivare. Medesima chiarezza parlando di due profili chiacchierati negli ultimi giorni. Di Pasquale, che sembrava prossimo a una chance, e il quasi desaparecido Vergani. Vergani è un giocatore di talento. Purtroppo finora ha avuto problemi fisici, che spero che ha passato. Spero di poterlo utilizzare, ma si deve mettere anche lui a disposizione. Di Pasquale attualmente non è quello che conoscevo io a Foggia. Foggia era giocatore importante, ha fatto bene. Ora anche in allenamento non mi convince. In più, come mancino, e voi me lo mettete a posto di Brosco, io con due mancini dietro non posso giocare. E allora davanti a Pizzari confermati i diffidati Pierno, Brosco e Mesi, che è uno tra Moruzzi e Milani. In mediana spazio all'ex Tugnovesquizzato. In risalita le quotazioni di De Marco. Due gol a Carrara contro il Sesti Levante, che se la gioca con Dagasso e Aloi. In avanti Cangiano, Merola e uno tra Tommasini e Cuppone, con l'ex Taranto in leggero vantaggio. Permane l'incognita maltempo per la disputa della gara, ma anche per lo svolgimento in corso. Previste forti raffiche di vento sul De Marmi. Io mi preoccupo, ma non so se dobbiamo mettere le pietre nel palone. Perché se il palone non si ferma è difficile giocare. Poi sono arbitri che decidono su quello che si può fare. A 24 e uno ha pareggiato, sì. E' una buona squadra, che gioca un buon calcio, anche ordinato, nel senso che sanno che fanno. Io spero che riusciamo a opporci e proponiamo anche il nostro. Certo che la partita dipende molto da tempo. Ed è tutto anche per questa edizione del TG6 la settimana. Una settimana di nostre notizie che torna tra sette giorni. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di domenica. Io vi ringrazio per la cortese attenzione